ciao a tutti amici dello scorpione benvenuti e bentornati io sono ilaria su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto di ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami scorpione tendenze energetiche romantiche per la seconda metà di giugno 2024 ok ragazzi abbiamo la carta del giudizio la carta del giudizio una carta di risveglio spirituale è la carta della chiamata al servizio o potrebbe anche semplicemente essere una chiamata telefonica che di solito è una carta che fa riferimento al passato in modo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo è facile che non risuoni tutto se non risuona se nulla se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida la trovate sotto nella descrizione del video sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi trovate le previsioni per il primo e secondo semestre del 2024 per l'estate e ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale ok abbiamo la temperanza la stella un dieci di coppe il mago un due di spade quattro di coppe e diavolo ragazzi allora vi devo innanzitutto adesso andiamo vedere carta per carta e poi dopo farò i vari esempi tipo se siete in una storia diciamo datata piuttosto che in una nuova conoscenza piuttosto che in una relazione diciamo indefinita se poi volete siete single o volete anche avere una previsione per quello che riguarda gli affetti familiari gli amici i figli insomma ho già pubblicato queste letture le trovate online sono nella sezione dei video scorrendo in basso col dito ok non so come farvi stare su le carte ok va bene allora partiamo da questa temperanza devo dire che la temperanza è una carta che mi parla di equilibrio una carta che mi parla di guarigione di armonia ma è anche una carta che mi parla di pazienza andiamo a vedere subito la temperanza vediamo a che cosa fa riferimento ecco 9 di pentacoli e mago devo dire che sono due carte e mago ce l'avete anche qui sono due carte strettamente legate all'indipendenza alla solitudine al può anche essere che qualcuno sia in una fase di isolamento mi da dire da un lato dall'altro potrebbe essere semplicemente un qualche tipo di riequilibrio di lavoro che si sta facendo sull'amor proprio per qualcun altro ancora semplicemente è un come un guarire una forza caratteriale mi viene da dire perché con questo nome di pentacoli sento che siete proprio forti in questi 15 giorni andiamo a vedere la stella papa amanti e sette di coppe sento che qui c'è un bello obiettivo può essere un obiettivo romantico può essere un obiettivo lo andremo poi vedere dopo però dipendendo da che tipo di relazione state vivendo ragazzi c'è come la voglia di andare oltre un po in tutti e tre i tipi di relazione andiamo a vedere questo 10 di coppe 6 di coppe wow e 4 di pentacoli dunque ragazzi potrei parlare di quello che è la vostra situazione piuttosto che la situazione della persona di interesse però potrebbe capitarvi di sentire le energie inverse in questo genere di lettura ok quindi quello che io dico essere per voi magari lo sentite per l'altro o l'altra però io qua ho come la sensazione che ci sia da parte di entrambe in realtà una una come vi posso dire una visione un po romantica se vogliamo della relazione che è una bella visione tra l'altro c'è un qualche cosa perché qui avete un 10 di coppe che mi parla di un completamento di una famiglia siccome abbiamo anche un 6 di coppa un 4 di pentacoli come la sensazione che ci sia una sorta di protezione a livello di famiglia di quello che avete creato potrebbe essere devo vedere il mago qui 10 di coppe si intende famiglia normalmente completa quindi lui lei ed eventualmente i figli o potrebbe anche potrebbero anche essere degli animali da compagnia allora 9 di coppe per il mago 3 di spade cavaliere di coppe 2 di bastoni e la giustizia di nuovo io sento ragazzi questa voglia di iniziare qualcosa con pazienza c'è come sì il bisogno di focalizzarsi su quello che si vuole realizzare sia voi stessi cioè voi per voi sia all'interno della coppia cioè che direzione alla coppia perché qua coppia relazione insomma abbiamo una stella come se ci fosse bisogno di un obiettivo comune l'obiettivo potrebbe essere un'ufficializzazione una regolarizzazione un qualche cosa che crei unione tra i due devo vedere il 2 di spade abbiamo un 5 di coppe un asso di denari e un fante di bastoni allora se per caso per iniziare questa relazione per concretizzarla per farle fare il salto successivo siete voi che dovete in qualche modo finanziare la cosa ecco in questo caso qui sento che potreste metterci un occhio di riguardo in più ipotesi siete fidanzati da tanto tempo e decidete di andare a convivere non lo sento tanto è un'ipotesi che però il punto è chi va chi paga l'affitto che paga la caparra insomma quelle cose lì c'è come qualche dubbio qui devo vedere il quadro di coppe e il diavolo regina di bastoni e 10 di pentacoli andiamo col diavolo tre di bastoni e luna allora ragazzi devo dirvi allora ragazzi qui se siete in una relazione appena iniziata o comunque dove state conoscendo l'altra persona sento che da parte vostra c'è la voglia di fare qualche cosa in più c'è la voglia di andare oltre ci sarebbe anche la voglia di fare le cose con un certo standard diciamo qualitativo anche però come se dall'altra parte invece ci fosse qualche rallentamento cioè è come se l'altra l'altra parte fosse un po più titubante probabilmente siete come dire su tempi diversi come se avesse tempistiche diverse voi vi sento un pochettino più veloci mentre l'altra persona la sento un pochettino più lenta però vi dico tendenzialmente gli obiettivi comuni ci sono cioè io vedo questa stella è come se appunto mi dicesse che nella seconda metà di giugno ci saranno come appunto questa nuova questo sì progetto potrebbe anche essere questo nuovo obiettivo potrebbe essere un corso potrebbe essere un contratto potrebbe essere una guida spirituale potrebbe essere un matrimonio considerato che abbiamo il papa però tenete presente che al giorno d'oggi il matrimonio può essere sostituito come una convivenza quindi io qui ho la sensazione che voi fareste le cose fatte in un certo modo quindi magari anche col matrimonio mentre l'altra persona è più del tipo ma prima andiamo a convivere oppure ma prima proviamo in un certo modo ok perché o come la sensazione che si debba un attimino ritrovare o trovare un certo tipo di equilibrio se siete in una relazione anche qui da tanto tempo anche qui sento che come bisogno di fare un passo in più nel caso ragazzi questo riguarda un po tutti potrebbe esserci per qualcuno un ritorno dal passato e ho anche la sensazione che questa persona potrebbe promettervi marie monti ma voi molto scaltri perché ormai conoscete la persona è come se non ci cascaste più sento che molte persone come se dicessero ok va bene tante belle parole ma dammi qualcosa di concreto perché qui abbiamo un asso di pentacoli la cosa concreta è come se non arrivasse vi dico è positiva la lettura nel senso che comunque abbiamo giudizio come se ci fosse un risveglio qui c'è tutto questa parte che mi parla di un nuovo inizio i nuovi obiettivi è vero c'è la luna è un 2 di spade ma probabilmente c'è un qualche tipo di anche condizionamento considerato che abbiamo il diavolo c'è qualche tipo di condizionamento o di proiezione che è un po da rivalutare vi dico vedendo sette di coppe la carta del diavolo fate attenzione agli obiettivi di cui parlate e chiedete prove concrete perché voi è come se avessi bisogno di queste prove concrete mentre l'altra persona parla 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 e basta ma un po è perché titubante secondo me però è un po è anche perché potrebbe essere una di quelle persone che ci ti ricordi quando stavamo bene ti ricordo soprattutto se è quella persona del passato di cui parlavo prima ok mi dico è come se arrivasse qualche nuova notizia qualche nuovo obiettivo qualche cosa che smuove in un certo senso la relazione sta a voi definire se prendere quello che la persona vi da oppure se diciamo chiedere prima delle prove concrete delle prove certe sul fatto che quello che sta dicendo effettivamente poi si concretizzerà devo dire che comunque è un è un momento quello della della seconda parte di giugno dove prenderete consapevolezza è un po come avere la visione di insieme andiamo a vedere ancora una fatina wow questa carta vi dice di chiedere per un aiuto effettivamente il papa potrebbe far riferimento anche una guida spirituale qui in realtà fa riferimento a chiedere aiuto agli angeli agli spiriti guida all'angelo custode insomma e dice che ci sono gli angeli che sono esseri celestiali che proteggono chiunque e questa fatina vi dice che adesso come adesso è tempo di chiedere la l'assistenza angelica vi dirò qua avete il giudizio e di solito è un angelo che suona le trombe diciamo così qui avete la carta della temperanza la carta degli amanti e queste sono tutte carte che in un certo senso vi dicono che avete come una protezione di tipo divino io qui il diavolo lo sento molto collegato con questa luna e ho appunto come la sensazione che ci siano delle proiezioni le proiezioni sono le illusioni illudersi che quando una cosa sarà in un certo modo altre cose cambieranno non sono due cose direttamente collegate diciamo ok va bene amici dello scorpione questo è quello che ho per voi spero che la lettura vi sia stata utile se vi fa piacere commentare farmi sapere a me piace sempre leggere i vostri commenti se poi volete anche sostenere il canale potete mettere like potete iscrivervi condividere il video o lasciare una piccola donazione nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me vi basterà contattarmi via mail per prenotare una sessione individuale oppure se preferite andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale bene io vi ringrazio di essere stati qui vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao